il 29 ottobre del 2020 sono ore 8 e 6 sto regando presso il bar archidea a fare colazione e poi al centro giorno devo ricordare fare la rinuncia contro picciccia che mi rompe troppo le scatole questo non è un po quello che mi dicono si carabinieri e colchiano non se ne fanno e poi vediamo quello di ciro nel terreno un po numero che cazzo eh sto picciccia dice che non è vero e cazzo sta a dire è vero è vero si ma voglio se è vero cioè le chiamate registrate risultano muova muova passato lì vede eh il padre manco io dice niente padre fa finta le dico sai perchè se ne frega è un po che è buono è un filo di gustano ecco che è buono questa è la verità io ho detto i voli dici e non lo faccio perché non è pieno non lo faccio perché non lo faccio ma non lo faccio perché non lo faccio Ciao Valentino. Ciao Valentino, ciao buongiorno. Oh bello, buongiorno. Ciao Valentino. Ciao Valentino. Ciao Valentino. Ciao Valentino. Ciao Valentino.